Contagio ancora in aumento nel sagno e nella provincia c'è chi pensa ad ulteriori misure restrittive. C'è preoccupazione in particolare a Montesarchio dove si registrano circa 60 casi di positività ed il sindaco Franco Damiano ha incontrato il prefetto Carlo Torlontano per informarlo della decisione di valutare ulteriori chiusure. Siamo molto preoccupati della risalita di contagi nella nostra comunità di Montesarchio e quindi per questo ho ritenuto opportuno informare la sua eccellenza il prefetto e la direzione generale dell'ASL per comunicare che se dovessero continuare a risalire in questo mondo i contagi il comune adotterà dei provvedimenti restrittivi. Di qui nuovo appello ai cittadini al rispetto delle regole in attesa di nuovi provvedimenti che porterebbero in determinate fasce orarie alla chiusura anche delle piazze principali del paese e delle attività. Una chiusura totale in alcuni orari della giornata, anticipare le chiusure e rendere il paese da questo punto di vista un po' più sicuro rispetto a quelle che sono le piazze, i bar, le attività. Intanto nel Sagno sono 69 nuovi casi segnalati dall'ASL di Benevento nelle ultime 24 ore e purtroppo nella giornata di ieri anche tre nuovi decessi nei reparti Covid del Sampio non ce l'ha fatto un 68enne di Telese Terme e due 90enne in degenza a Benevento ma residenti in altre province. Sul fronte dei vaccini anche nel Sagno si lavora per velocizzare la campagna di immunizzazione di medici di base dopo un incontro presso la sede dell'Ordine di Benevento hanno ribadito la disponibilità a partecipare attivamente alla somministrazione dei vaccini.